L'estate è ormai vicina e una delle tematiche che si ripresenta più frequentemente fra le domande che ricevo e riceviamo è Edo, ma come bisogna andare a selezionare le creme solari? Così come il campo integrazione che ormai affronto da lontano 2016, ci sono cose a cui stare attenti quando seleziono una crema solare. Cosa bisogna sapere? Come bisogna proteggersi dagli influencer viscidini con il conflitto di interesse che magari il brand li paga lo stipendio e ti promuove una crema solare rispetto ad un'altra? Oppure ci sono dei brand che possono andare a utilizzare delle tecniche di marketing per rifilarmi una sola o comunque un prezzo che costa più di quanto dovrebbe andare a costare? Eccomi qua in suo corso, ci andiamo a vedere punto per punto tutto ciò che tu debba andare a sapere. Ora se è la prima volta che vedi un mio video, magari non sai chi io sia, piacere il mio nome è Dordo Baldini, ho più di 3000 video sul canale, sono qui dal lontano 2016 e ho sempre affrontato l'integrazione, anche se questo campo esola un po' dal campo integrazione, ma ho sempre affrontato l'integrazione senza mai essere stato sponsorizzato da un brand e senza mai aver ricevuto uno stipendio da un brand per parlare bene di un composto rispetto ad un altro. Ebbene per affrontare la tematica delle protezioni solari dobbiamo andare a parlare innanzitutto di raggi ultravioletti e in particolar modo della divisione che abbiamo all'interno ovvero raggi UVA e raggi UVB. Ora quando parliamo di raggi UVB corrispondono a circa il 10% dei raggi che arrivano a noi e in particolar modo sono quei raggi responsabili delle scottature, delle bruciature, perché sono dei raggi che si fermano sulla pelle e non vanno in profondità. Mentre quando parliamo dei raggi UVA fanno parte di quel 10% restante ma questi raggi sono molto perforanti e vanno bene in profondità andando potenzialmente a causare un eccesso di radicali liberi, radicali liberi ne abbiamo già parlato tante volte quando abbiamo parlato sul canale di antiossidanti. Abbiamo visto per esempio quando avevo annunciato il mio composto che in questo momento è sold out nel momento in cui uscirà il video antiossidante senza stronzate. Tra l'altro il multivitaminico senza stronzate tornerà a breve quindi per chi voglia rimanere aggiornato lascio un link per registrarsi giù in descrizione e nei commenti. E comunque ritornando a noi un eccesso di radicali liberi cosa può andare a portare? Può andare a portare diversi problemi fra cui per esempio parlando di pelle l'invecchiamento accelerato andando ad agire sull'impalcatura del collagene e quindi le rughe per intenderci e in più possono andare a creare problemi al DNA con potenziale tumore della pelle. Quindi come si capisce già inizialmente i più insidiosi sono gli UVA che mentre questa è una piccola curiosità gli UVB praticamente dal vetro della macchina o dal vetro della casa non riescono a passare gli UVA riescono a passare anche dal vetro della macchina. E per questo motivo poi magari se interessa fatemelo sapere qui sotto e se ricevo tanto interesse magari ci farò un video a riguardo perché esula un po' dalle tematiche del canale però se interessa tanto ci farò un video. Ha senso da un punto di vista di skin care quindi della cura della pelle andare a mettersi la crema solare anche qualora non si avesse l'obiettivo di prendere il sole durante tutto l'anno. E attenzione tutto quello che noi adesso andremo a vedere vale sia che tu stia prendendo il sole in spiaggia o in piscina o al lago sia che tu ti metta in un lettino solare che vale per in ogni situazione. E devi sapere che praticamente l'abbronzatura cosa è? È un meccanismo di protezione della pelle. A cosa? Ai raggi UV. E qui alcune persone mi potrebbero dire Edo ma quindi se mi metto la crema solare non mi abbronzerò? La risposta è che sì ti abbronzerai semplicemente la crema solare lo farà avvenire più lentamente. Ma questa è una cosa che come poi andremo a proseguire con l'analisi di questo video ci interessa anche da un punto di vista di protezione della salute e di antiinvecchiamento. E in particolar modo quando parliamo di solari ciò che ci interessa sono i filtri solari ovvero delle sostanze all'interno dei composti come per esempio le creme solari che vanno praticamente a proteggerci andando ad assorbire o a riflettere i raggi UV. E quando guardiamo un solare dobbiamo tenere in considerazione due cose. La protezione ai raggi UVB e la protezione ai raggi UVA. Quando parliamo di raggi UVB dobbiamo tenere in considerazione la scritta che troverete sicuramente SPF che è chiaramente un acronimo e a questo acronimo è associato un numero. Ecco questo numero va ad indicare quanti raggi va a bloccare l'insieme di filtri solari dei raggi UVB che noi troviamo all'interno. Ti faccio un esempio se noi troviamo SPF 30 ciò significa che noi andiamo al massimo ad avere 1 ogni 30 raggi UVB che riceviamo quindi praticamente abbiamo una protezione del 97%. Se invece noi andiamo a trovare un SPF 50 significa che noi andiamo a prendere 1 ogni 50 raggi UVB. Tra l'altro non so se stai comprendendo di che qualità probabilmente è il video più completo su YouTube su questa tematica quindi magari se ti iscrivi così ti proteggi dai vari influencer là fuori che ti parlano di integrazione e di creme solari senza comprenderci una mazza. No qui siamo sempre andati a vedere ciò che gli studi ci dicono e lo andiamo ad applicare nell'integrazione di tutti i giorni e colgo anche il momento per annunciare l'annuncio di servizio che è uscito un nuovo aggiornamento fra i capitoli bonus della mia guida alla rivoluzione sull'integrazione. Con percorso sull'integrazione stando alle informazioni scientifiche senza conflitti di interesse cosa rarissima da trovare online perché tutti hanno il codicino viscido sconto o hanno la promozione del brand all'interno parliamo di integrazione a 360 gradi quindi parliamo di salute dei capelli della pelle dei reni del pegato integratori antiossidanti vitamine minerali aumento della massa muscolare perdita di grasso salute ormonale sia per uomo che per donna per i 20 anni 40 anni 60 anni parliamo di tutto. Qui davanti vi sta scorrendo tutto l'elenco delle tematiche che ci sono all'interno ma se andate nella pagina di presentazione che lascio giù in descrizione nei commenti troverete tutto l'elenco e oltre a ciò vado a fornire una lista dei composti che io vado ad analizzare in modo imparziale senza conflitti di interesse in continuo aggiornamento e oltre bene al nuovo capitolo sulle creme solari sono andato a mettere anche dei composti che io andrei ad utilizzare non sei obbligato se non ti vuoi andare a fare tu le analisi imparziali trovi già tutto fatto e paghi una volta e gli aggiornamenti sono gratuiti a vita. Quindi veramente la rivoluzione su integrazione che ad oggi conta probabilmente 360 pagine è la guida più completa che tu possa trovare con un supporto attenzione a vita tutte le domande che vuoi hai in contatto diretto con me e ti togli tutti i dubbi. Pagina giù in descrizione nei commenti. Ora in Unione Europea è stato messo un limite alla dicitura che noi possiamo trovare sull'etichetta ciò significa che noi non possiamo andare a trovare più di SPF 50 o meglio può andare a trovare SPF 50 più che va a significare che c'è un SPF superiore a 50 ma non possiamo trovare più di SPF 50. Questo è stato fatto come tutela del consumatore per evitare anche magari potenziali truffettine o magari che il consumatore potesse cadere in inganno e tendenzialmente fra un SPF 30 e un SPF 50 in termini di protezione non c'è tutta questa differenza. Stiamo parlando del 97 contro il 98 per cento è vero l'SPF da una protezione maggiore ma tenete in considerazione questo aspetto qua perché noi dovremo andare a parlare dopo quando parleremo di quantitativo di crema solare quindi ricordatevelo segnatevelo e lo vediamo a breve. Dopodiché dobbiamo andarci a assicurare che la crema solare abbia anche un quantitativo di filtri solari per quanto riguarda i raggi UVA che sono differenti ora nell'aggiornamento delle evoluzioni sull'integrazione vi ho messo anche diciamo dei nomi comuni ma è poco interessante andarne a parlare perché tenete in considerazione che i composti che vengono messi come filtri solari nelle creme solari sono sicuri in un'unione europea ce ne sono circa 28 approvati anzi sono proprio 28 e tendenzialmente hanno superato tanti 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 test e quindi se un prodotto è in commercio tendenzialmente è sicuro anche perché ecco qui voglio chiarire una cosa quando tu ti metti la crema il corpo non è che effettivamente lo vada a assorbire sì magari qualcosina lo riesce anche ad assorbire e finisce nel flusso sanguigno ma stiamo parlando veramente di quantitativi irrisori che sono trascurabili il fatto che una persona dica la crema si è assorbita in realtà non è altro che una parte che è evaporata e quindi è rimasta solo la protezione quindi non è che il corpo l'assorbita e per questo motivo perché ci tengo a sottolinearlo perché in passato abbiamo parlato del biossido di titanio come una sostanza potenzialmente cancerogina quando la troviamo negli integratori infatti adesso è stata bandita e non la dovessi più trovare negli integratori prodotti in unione europea ecco quando la trovi all'interno di una protezione solare non è un problema quindi volevo rassicurare perché magari una persona legge biossido di titanio cavolo Edoardo ha detto che è pericolosa poi non l'ho detto io l'ha detto la commissione europea però io l'ho riportato e quindi magari uno si poteva spaventare no non ci sono problemi e comunque ritornando ai raggi UVA e la protezione UVA cosa c'è da dire? c'è da dire che non c'è una vera e propria nomenclatura come abbiamo detto per l'SPF ovvero noi non andremo a trovare un numero accanto alla protezione UVA in linea generale troverete un cerchio con scritto UVA all'interno e noi dobbiamo tenere in considerazione che nell'unione europea per legge si è obbligati ad avere una protezione ai raggi UVA di almeno un terzo dell'SPF cosa significa questo? che se tu vai a prendere una crema solare che protegge dai raggi UVB e dai raggi UVA se è un SPF 30 avrai almeno una protezione dai raggi UVA 10 e compreso questo dobbiamo parlare di dosaggio e parto già dicendo che sicuramente nel 99% dei casi non è mai utilizzato il giusto quantitativo di crema solare perché ti posso dire questo? perché stando alle informazioni scientifiche noi dovremmo andare a utilizzare 2 mg per cm quadrato di pelle ciò significa che una persona in media quindi non troppo alta non troppo bassa in medio dovrebbe andarsi a spalmare su tutto il corpo circa 30 grammi di crema solare attenzione hai capito bene significa che se tu hai preso una confezione di un solare da 150 grammi lo finirai in 5 volte e tieni in considerazione che all'interno di un giorno probabilmente se passi tutto il giorno al mare dovresti metterti la crema più di una volta perché? perché il sudore perché l'acqua che magari fai un bagno perché lo sfregamento con i vestiti o con il telo da mare e anche l'esposizione ai raggi UV fanno sì che la protezione solare si rimuova e se si rimuove la devi rimettere e qui so già che alcune persone mi diranno cavolo Edo ma così mi viene a costare tantissimo ecco se ti vuoi proteggere dai raggi UVB e raggi UVA devi fare così o quantomeno avvicinarti ma tieni in considerazione che più starei lontano da questo quantitativo più la protezione che tu ti andrai a mettere non sarà quella effettiva cosa significa questo? significa che se tu ti dici cavolo io ho comprato un SPF 50 ma è molto costoso quindi lo uso con parsimonia quindi me ne metto meno ecco cosa succede un SPF 50 se ne metti poca dipende poi quanto ne vai a mettere può diventare tranquillamente un SPF in termini di protezione 5 o 10 quindi invece di proteggerti da 49 sui 50 raggi UV che ricevi ti puoi ritrovare a farne passare uno ogni 5 non uno ogni 50 e quindi a quel punto tanto valeva aver comprato una protezione magari che ti costava meno magari un SPF 30 magari comprato sotto casa la botteghina o al discount che almeno promettevi il giusto quantitativo e allora in quel caso ti proteggevi di più perché ecco una tematica che voglio andare ad affrontare qual è? è il fatto che nelle creme solari devi stare attento che nella maggior parte dei casi il prezzo non è indicativo di qualità tieni infatti in considerazione che superati diciamo gli elementi di filtri solari e qualche altro ingrediente la maggior parte degli ingredienti poi sono magari prodotti che danno il profumo prodotti inseriti in un'ottica di marketing come viene fatto molto spesso anche nel campo integrazione per esempio in questo caso nelle creme solari può essere inserita l'aloe che però da un punto di vista di protezione non fa un bel niente però sicuramente attira l'occhio e magari una persona diciamo qui c'è l'aloe e compro questo ecco non fa un bel niente e lo paghi di più per questo motivo il consiglio che posso andare a dare avendo letto tutto il materiale scientifico che ci possa essere è è meglio una crema economica magari con una protezione SPF 30 quindi non 50 non 50 più che però paghi un prezzo che ti sta bene e che utilizzi nelle modalità giuste quindi se ti devi spalmare 30 grammi magari te ne metti 28 ma non te ne metti 10 perché la crema ti è costata troppo e vuoi usarlo con parsimonia e attenzione qui ci sono anche altre tematiche ovvero che magari puoi trovare scritto crema per il viso e crema per il corpo non c'è differenza queste sono trovate di marketing una crema per il viso è uguale per il corpo molto spesso gli viene data questa nomenclatura perché la modalità in cui dovesse andare ad applicare la crema mi viene in mente per esempio i solari stick magari andarti a mettere lo stick lungo tutto il corpo diventa un po problematico e quindi ti viene messo magari uno stick per la faccia ma non vi è differenza e anche che tu trovi un solare spray un solare sotto forma di crema non vi è differenza vanno tutti bene danno tutte la stessa protezione chiaramente con alcune di queste modalità sarà più difficile tenere traccia di star mettendo il giusto quantitativo e magari non sarà proprio comodo andarselo a mettere lungo tutto il corpo ma non vi è differenza tu puoi usare un solare venduto per la faccia sul corpo non cambia assolutamente niente e mi raccomando lasciate perdere i solari venduti come naturali andandoti a mettere che ne so l'olio d'oliva l'olio di carota l'olio di lampone o roba di questo tipo perché non sono adeguati per proteggerti come hai capito i raggi uva possono fare dei problemi quindi è bene proteggersi oltre proteggersi dalle scottature è bene proteggersi dai danni al dna e dall'invecchiamento perché non ha senso secondo me abbronzarsi adesso e poi fra 10 anni sembra che tu abbia 90 anni e quindi come hai capito in realtà la questione della selezione delle creme solari è molto più semplice di quello che si pensi in realtà anche una crema solare super economica se è protezione uvb e uva va bene alcune questioni molto veloci ma che possono essere veramente utili a tante persone per evitare magari fregature la prima magari esola un po da questo ma è la crema solare va ad impedire la produzione di vitamina d noi sappiamo che i raggi uv vanno ad aiutare in un'ottica di produzione della vitamina d e siccome abbiamo parlato di tante volte di vitamina d anche quando c'è stato il multivitaminico senza stronzate ne abbiamo parlato ecco no siccome non esiste una protezione al 100% che non lasci passare nessun raggio uv la produzione di vitamina d rimane intatta quindi non ci sono problemi seconda questione sostanze naturali derivanti molto spesso da piante per accelerare la bronzatura statene alla larga molte di queste sostanze poste sulla pelle ai raggi uv possono andare a creare danni al dna un eccesso di radicali liberi che si magari ti fanno abbronzare di solito più a chiazze che completamente ma rischi la salute quindi assolutamente lascia perdere e per invece tutti quelli auto abbronzanti è vero la pelle si colorerà ma non è derivante dall'abbronzatura è una reazione chimica di una sostanza che a contatto con la pelle ti fa colorare ma non è abbronzatura quindi non è un auto abbronzante se lo vuoi utilizzare lo utilizzi ma non c'entra niente con l'abbronzatura è una falsa abbronzatura detto ciò io le informazioni te le ho date per quest'anno se a posto se vuoi smettere di comprare integratori o in questo caso creme solari promosse da influencer con il codicino sconto viscidino con il brand che li paga lo stipendio entra nell'evoluzione su integrazione paghi una volta e hai un supporto a vita e aggiornamenti inclusi a vita come questo nuovo aggiornamento tutti i membri se lo sono presi gratuitamente tutti gli aggiornamenti che possono attenzione la guida può essere letta dal telefono dal pc te la puoi stampare può farci quello che vuoi vengono comunicati sia nel gruppo telegram sia per email quindi ogni cosa si viene avvisati si parla di tutto di integratori per la salute a 360 gradi di antiossidanti di vitamine di minerali parliamo di integratori per la pelle per il fegato per i reni per gli occhi integratori per i ventenni per i quarantenni per i sessantenni per gli ottantenni per l'uomo per la donna per aumento della massa muscolare per l'incremento del testosterone per l'abbassamento degli estrogeni parliamo di tutto chiaramente il tutto provato scientificamente parliamo solo di quello la pagina te la lascio giù in descrizione nei commenti ricordo che tutti i membri hanno accesso anche alle mie analisi in parziali dei vari composti dei vari band di integrazione così se non si vogliono fare le proprie ricerche in modo autonomo si trova tutto il supporto è inclusa a vita la pagina te la lascio giù in descrizione nei commenti per qualsiasi domanda sui miei percorsi come funzionassero se potessero fare per te o se vuoi il pacchetto personalizzato quindi non ti vuoi stare a leggere tu la guida e vuoi direttamente ciò che gli studi consigliano nella tua situazione puoi scrivere a questi riferimenti qua ad Alessandro o Maddalena a questa email qua a questo romanzo qui ti risponderanno a tutte le domande del caso altrimenti ci sono le pagine di presentazione giù in descrizione nei commenti che chiariscono tutto noi come sempre ci vediamo tutti c'è da luna smetti di buttare via soldi incomposti promossi dall'influencer ciao a tutti al prossimo video peace